che mi aveva colpito fin dall'inizio e ora ho la possibilità di dirla. Sanda, ma ti rendi conto che la sospensione che le è andata, cioè il provvedimento disciplinare, è pari agli agenti del G8? No, no, attenzione, stiamo parlando di un provvedimento disciplinare. Siccome conosco la tua sensibilità di cronista e sappiamo che cosa accadde a Genova, noi abbiamo a che fare con una persona che nel bene o nel male ha espresso un'opinione e la sanzione è pari a quello che accadde a Genova al G8. Se a voi va bene questo, allora è tana libera a tutti. Gianluigi, un prete non può bestemmiare, un medico non può fare propaganda contro i vaccini, un vicequestore, con tutto il rispetto per la libertà di opinione, Ma se un prete è violento ai bambini, è diverso. Un vicequestore non può andare sul palco a dire che vanno puniti i suoi colleghi. Luca, se un prete è bestemmia, se un prete è violento a un bambino, ne è un altro. Se metti insieme la bestemmia, la violenza e i danni di un bambino, ripeto, è tana libera a tutti. Noi stiamo parlando di una persona che tu hai detto, uso la tua metafora, la tua similitudine, ha bestemmiato in chiesa. È un prete che ha bestemmiato in chiesa. Perfetto, ma non ha stuprato i bambini. E le stanno dicendo che la sua sanzione è pari ai fatti di Genova. Ripeto, se va bene così a voi, allora vuol dire che Genova è stata una carta jolly. No, non volevo dire questo. Puoi scriverlo?